Oltre la metà della popolazione del mezzogiorno non svolge attività sportiva con ricadute sulla salute e quindi sui costi sanitari ma anche sullo sviluppo. In Sicilia il dato si attesta al 55% a fronte di una quota intorno al 30% delle regioni del nord. Al sud un minore su tre tra i 6 e i 17 anni è sovrappeso. La partecipazione alle attività sportive è strettamente correlata con il reddito della popolazione dei vari territori. Lui indica la ricerca Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno. Il svolgimento di un'attività sportiva comporta una riduzione di circa 100 euro annue in termini di spesa da parte delle famiglie. Avere o no un'occupazione impatta sulla possibilità di fare attività sportiva. Al sud poi c'è carenza di impianti sportivi, un divario che può essere colmato. Il primo tema che va affrontato è quello delle opportunità che si aprono davanti per tutto il paese ma in particolare per il mezzogiorno con gli investimenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Complessivamente sono circa un miliardo di euro, se sommiamo le risorse direttamente destinate al Dipartimento dello Sport, 700 milioni, con i circa 300 milioni destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive all'interno delle scuole. lì c'è bisogno di uno sforzo in termini di progettazione e di supporto alle amministrazioni locali più deboli.